Ben trovati nella libreria Padre Pio a San Giovanni Rotondo, un nuovo appuntamento con tra le righe e consigli di lettura. Anche questa settimana partiamo con un libro dedicato al Santo di Pietrelcina. Rimaniamo su un autore, un frate, un suo confratello che ormai non è più tra noi, non è più su questa terra. Parliamo di Padre Alessio Parente, che ha scritto... La settimana scorsa abbiamo parlato del libro che riguarda Padre Pio e gli angeli custodi. Questa settimana vogliamo presentarvi questo libro intitolato Padre Pio e le anime del purgatorio, edizioni Padre Pio da Pietrelcina. Sono dei libri davvero molto semplici e efficaci che aiutano a conoscere la spiritualità e la vita del Santo di Pietrelcina attraverso aneddoti, episodi e sono veramente dei ricordi straordinari. Scrive Padre Alessio Parente, pagina 137. Una delle regole da rispettare nel convento, ed è ancora così, sia pure molto attenuata, è la puntualità al refettorio per consumare i due passi giornalieri del mezzodì e della sera. I frati una volta si mettevano in fila davanti alla tavola. In direzione del proprio posto, dopo essersi inginocchiati e baciata la terra, recitavano la preghiera guidata dal superiore. Una scena abituale nel refettorio del convento di sera. I frati, come di consuetudine, si erano radunati per consumare il loro pasto frugale, ed anche Padre Pio era lì a mangiucchiare qualcosa. Il vivace chiacchierio fu improvvisamente interrotto da un brusco movimento dalla parte di Padre Pio. Di colpo, egli si alzò dal suo posto, uscì dal refettorio e si avviò verso la porta del convento, che era ed è ancora in fondo ad uno stretto corridoio, non molto distante dallo stesso refettorio. Un paio di frati seguirono Padre Pio, come sempre facevano. Padre Pio aprì la porta e cominciò a parlare. Ai frati appariva chiaro che si trattava di una conversazione con degli interlocutori, che i frati però non vedevano. Infatti, ai loro occhi sembrava che Padre Pio parlasse col vento, anche se poi era chiaro che vi era anche la pausa di ascolto di quel che eventuali interlocutori dicevano. Mentre osservavano Padre Pio in conversazione, i confratelli rimanevano stupiti e perplessi, pensando che Padre Pio la stava facendo grossa, tanto che uno arrivò a borbottare «Ma che è impazzito? Ma che sta succedendo?». Possiamo dire a giustificazione dei confratelli che questa è la normale reazione in chi osserva chi parla da solo, con se stesso o con persone non presenti. Finita la conversazione, Padre Pio, comprendendo la perplessità e la preoccupazione dei confratelli, fece un largo sorriso e per tranquillizzarli disse «Non preoccupate, vi ho parlato con alcune anime che sulla strada che dal purgatorio mena al paradiso sono venute qui per ringraziarmi di averle ricordate questa mattina durante la messa». Dopo, con calma, insieme ai confratelli, ritornò nel refettorio, raggiungendo il suo posto come se non fosse accaduto nulla di straordinario. I frati che lo avevano seguito, superato il momento di smarrimento, ripresero il loro buon umore. Conoscevano ed erano abituati a ben altri fenomeni del loro celebre confratello. Poi, da uno che porta sul suo corpo le stimmate della crocifissione di Nostro Signore, ci si può attendere di tutto e con Lui bisogna essere pronti ad aspettarsi tutto. In effetti, come sappiamo, non era accaduto nulla di insolito, poiché le anime dei defunti andarono spesso da Lui durante i 52 anni trascorsi a San Giovanni Rotondo. Vi posso assicurare che questa è solo una delle tante storie, uno dei tanti episodi riportati in questo libro di padre Alessio Parente, appunto intitolato «Padre Pio e le anime del purgatorio». Edizioni Padre Pio da Pietrelcina. Un libro del non recentissimo, di qualche anno fa, di cui è stata fatta anche una doppia ristampa, edito dalla San Paolo e che vi propongo con grande piacere, di Andrea Riccardi, la santità di Papa Uetiwa. San Giovanni Paolo II, anche se per noi sarà sempre Giovanni Paolo II, in cui racconta un libro che è stato scritto quasi per raccontare i vari momenti che hanno portato alla canonizzazione di Giovanni Paolo II, che ha avuto davvero una vita molto articolata, è un pontificato molto ma molto lungo. E allora, le domande che ci si pone sono tante in questo libro. Una tra tutte è che cosa ha spinto la chiesa di Ratzinger e di Bergoglio a prendere una decisione in tempi così rapidi. Forse questo tipo di decisione vuole rimarcare il fatto che Giovanni Paolo II sia stato davvero un Papa profondamente diverso rispetto ai suoi predecessori. e leggo giusto un passaggio di questo libro, un capitolo in cui Riccardi sottolinea proprio l'importanza di Giovanni Paolo II e la concretezza della storia. Infatti scrive che Carlo Uetiwa resta un grande attore della politica e della vita sociale del mondo contemporaneo, come mostra anche solamente il serrato confronto con il comunismo e la lotta per la liberazione della Polonia. Infatti, se prima di tutto è stato un credente, un pastore della Chiesa Cattolica, egli è stato anche un grande attore politico. Non veniva dalla carriera diplomatica della Santa Sede, ma una volta divenuto Papa si mostrò consapevole del valore dell'impegno suo, del Vaticano e della Chiesa, per creare un clima nuovo tra i governi, per aiutare le Chiese ad essere libere, per prevenire i conflitti e per risolverli. E infine, e non è un'espressione retorica, per liberare i popoli. Questo è solo un piccolo passaggio di questo libro, appunto, intitolato La Santità di Papa Uetiwa, edito dalla San Paolo, firmato da Andrea Riccardi. Parliamo ora di comunicazione. Parliamo di comunicazione e fatà editrice, pubblica, affirma di Stefano Di Carlo e Luigi Meani, Quando io parlo, tu mi ascolti, i segreti per una relazione vincente. Chissà quante volte leggiamo in quarta di copertina vi sarà capitato di non sentirvi ascoltati o magari di essere voi stessi e non prestare attenzione alle parole di altri? Saper ascoltare è certamente una delle abilità più importanti nella vita di tutti i giorni, un'arte che può influenzare positivamente la nostra esistenza e le nostre relazioni con gli altri. Questo libro offre concretamente degli strumenti di autoapprendimento che vi permetteranno, ci permetteranno, di evitare gli errori che spesso sono all'origine di incomprensioni e contrapposizioni nell'esperienza umana. Le indicazioni pratiche contenute in questo testo consentiranno di affinare sempre più la sensibilità al vissuto emotivo dell'altro, favorendo così una vera e propria proficua apertura al dialogo. Allora, a proposito di esercizi per affinare le proprie capacità comunicative, come diceva Socrate, accade invece che quando ci si trova in disaccordo su qualche punto e quando l'uno non riconosca che l'altro parli bene e con chiarezza, ci si infuria e ciascuno pensa che l'altro parli per invidia nei propri confronti, facendo a gara per avere la meglio rinunciando alla ricerca sull'argomento proposto nella discussione. Quali sono questi esercizi? Per affinare concretamente le proprie capacità comunicative. Ascolto. Importante allenare la propria capacità di ascolto nella quotidianità ed è importante guardare il proprio interlocutore mentre ci parla, sforzarsi di non interrompere per nessun motivo, fare qualche domanda per assicurarsi di aver bene compreso il senso del suo discorso e provare a riassumere il senso di quanto hai appena ascoltato. Ci sono proprio delle esercitazioni vere e proprie di ascolto e su come comunicare in maniera congrua, diretta e facilitante. Poi vengono anche elencate, non so, le situazioni di conflitto, magari anche nella coppia e ancora il dialogo tra genitori e figli, come si possono esprimere dei complimenti, anche se poi i due autori fanno un elenco di complimenti, dei vari tipi di complimenti. I complimenti di plastica che vengono formulati con frasi stereotipate, senza attenzione a denti stretti, complimenti al carry, dolce all'inizio e amare alla fine, tipo hai riordinato la camera, ma che cosa è successo, un miracolo? Complimenti ricattatori, associare al complimento una richiesta, tu sei generoso, mi fai copiare i compiti, complimenti enfatici, sono esagerati e annullano l'effetto positivo, magari non ho mai incontrato una ragazza più bella di te, oppure complimenti assertivi, era ora, sono dei genuini apprezzamenti per qualche comportamento o caratteristica dell'altro, sono espressi in maniera precisa, specifica e ben argomentata, non si spara sul mucchio, ma si va a lodare nello specifico, intelligenza, gesto altruista, abilità in, competenza in, quindi probabilmente quelli che funzionano di più, che dovremmo esercitarci a mettere in pratica, sono proprio i complimenti assertivi. Allora, vi ricordo il titolo di questo libro, quando io parlo, tu mi ascolti, segreti per una relazione vincente, relazione perché ho anche comunicazione vincente, Stefano Di Carlo e Luigi Meani, è fatà editrice. Concludiamo con un libro di piccole storie, anche questa volta, piccole storie che con semplicità davvero riescono a lanciare dei messaggi, una morale, forse il messaggio è più bello di morale, ma noi abbiamo le ali, piccole storie per l'anima, LDC a firma del grande Bruno Ferrero. Una storia che si intitola Al parco. Un bambino voleva conoscere Dio, sapeva che era un lungo viaggio arrivare dove abita Dio, ed è per questo che un giorno mise dentro al suo cestino dei dolci, marmellate e bibite e cominciò la sua ricerca. Dopo aver camminato per circa 300 metri, vide una donna anziana seduta su una panchina nel parco. Era sola e stava osservando alcune colombe. Il bambino le sedette vicino e aprì il suo cestino. Stava per bere la sua bibita quando gli sembrò che la vecchietta avesse fame e allora le offrì uno dei suoi dolci. La vecchietta, riconoscente, accettò il sorriso al bambino. Il suo sorriso era molto bello, tanto bello che il bambino le offrì un altro dolce per vedere di nuovo il suo sorriso. Il bambino era incantato, si fermò molto tempo mangiando e sorridendo. Al tramonto il bambino stanco si alzò per andarsene, però prima si volse indietro, corse verso la vecchietta e la abbracciò. Ella, dopo averlo abbracciato, gli dette il più bel sorriso della sua vita. Quando il bambino arrivò a casa sua e aprì la porta, la sua mamma fu sorpresa nel vedere la sua faccia piena di felicità e gli chiese «Figlio mio, che cosa hai fatto che sei così felice?» Il bambino rispose «Oggi ho fatto merenda con Dio». E prima che la sua mamma gli dicesse qualche altra cosa aggiunse il bambino «E sai, hai il sorriso più bello che io abbia mai visto». Anche la vecchietta arrivò a casa raggiante di felicità. Suo figlio restò sorpreso per l'espressione di pace stampata sul suo volto e le domandò «Mamma, che cosa hai fatto oggi che ti ha reso così felice?» E la vecchietta rispose «Oggi ho fatto merenda con Dio nel parco» e prima che suo figlio rispondesse aggiunse «Sai, è più giovane di quel che pensavo». Lo sapete? Dio è più giovane di quel che pensate ed ha un sorriso splendido. Meravigliosa questa storia con questo sorriso concludiamo anche questa puntata di Tra le righe e consigli di lettura. Grazie per essere stati con noi appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti.